Una mostra fotografica a sfondo sociale. Fino al 19 maggio al Centro Internazionale di Fotografia di Palermo, Boys Don't Cry, un progetto che ha coinvolto un gruppo di migranti ospite del Centro d'Accoglienza Asante di Palermo. Scatti realizzati da Missa Dembele, Mori Sangare, Fofana Abdullaye, Bubadramè e Caita Bubacar, che ritraggono loro stessi o la loro assenza, utilizzando i pochissimi oggetti che possiedono, come frutta e verdura. La curatrice è Ludovica Ansaldi. Nella mostra troviamo video, foto e disegni dei ragazzi. Loro sono due dei fotografi e disegnatori. Il progetto è nato quest'estate a Palermo perché soprattutto l'estate i ragazzi non fanno quasi niente. Loro durante l'inverno hanno dei corsi di italiano, ma l'estate non stanno tre mesi buttati in camera. E quindi abbiamo usato il tempo in maniera creativa, abbiamo visitato la città vedendo manifesto, abbiamo imparato i nomi della frutta, abbiamo imparato come si fanno le foto, ci siamo concentrati e abbiamo fatto amicizia. Un workshop di educazione all'immagine e al filmmaking per sensibilizzare e stimolare il loro sguardo sulla realtà e imparare a esprimersi utilizzando la fotografia, con l'obiettivo di suscitare i loro sguardi personali, critici e liberi attraverso uno scambio emotivo e culturale. Acquisire una visione e una tecnica per esprimersi gli consente di superare ogni barriera linguistica e culturale e rappresenta per loro anche un bagaglio di competenze e abilità che potranno sfruttare in futuro.